Sette volte al giorno ti ho lodato, dice il profeta. Con il sacro numero di sette assolveremo i doveri del nostro uffizio. Alle lodi, alla prima, alla terza, alla sesta, alla nona, al vespro e alla compieta. Ogni giorno alle quattro del mattino si leggono le lodi. Una minestra di ceci tutti i giorni, meno il venerdì, giorno di digiuno assoluto. Rifiutare il cibo è una grave mancanza, perché benedetto. E' sera, il momento della compieta. Sono ridotta a nulla e nulla sono, dice il profeta. Eccomi dinanzi a te come una bestia da somma, ma sono sempre con te. Basta! Non resisto! Non ne fa sapere! Non voglio più stare qui! Mi uccido! Mi uccido! Apritemi! Non voglio uscire di qui! Non voglio uscire! Vi prego! Apritemi! Non ne posso più! Vi prego, vi supplico, chiunque voi siate, dite che non resisto, che non voglio, che non posso più stare qui! Mi prego! No! Non rivolgono mai la parola, ne rispondono alle domande. Oggi è giorno di giù. Abbi forza e pazienza. Come ti chiami, sorella? È il quattordicesimo giorno. Coraggio, sorella. Sono stata consegnata la morte. Signore, affrettate di aiutarmi. Sollo. Ecaczy... Sollo... Appolsi..